Come sempre in diretta fino alle 9, tante notizie da leggere quest'oggi sui giornali, tanti spunti per capire meglio la nostra città, per viverla al meglio, per cercare di vivere, di uscire, di affrontare questa giornata che inizia sotto una pioggia battente, ancora pioggia, ancora buche nelle strade, non sarà facile, parchetti allagati, strade che ricordano Venezia, insomma non sarà una giornata facile anche se le previsioni dicono che dovrebbe andare a smettere di piovere durante la giornata, domani giornata di tregua dalla pioggia, però poi mi spiace, weekend ancora con la pioggia, sì questo è il weekend che ci aspetta ma siamo ancora a mercoledì, aspettiamo un attivino di arrivare a fine settimana, sicuramente oggi ancora un po' d'acqua, forse un po' di tregua ma poi come dicevo appunto ritornerà il brutto tempo a partire dalla giornata di venerdì. Giovanotti con Penso Positivo, e sì perché ci rimane solo il pensiero positivo per riuscire ad affrontare una giornata come questa, devo dire la verità, quindi pensiamo positivi tutti quanti, al 3317853555 ci è arrivato infatti il primo Whatsapp, è qua di Alberto, buongiorno Cristallini, buongiorno zio Fabio, altra mattina dove si stava bene a letto e invece ci tocca uscire sotto l'acqua, ebbene sì ma adesso troveremo il modo di uscire, sicuramente nelle prossime mesi, non credo settimane ma mesi, o comunque nel prossimo futuro milanese si potrà uscire più facilmente in taxi, perché? Perché leggiamo da Corriere della Sera Milano, taxi a Milano, via al bando per 450 nuove licenze, più auto di notte e per il trasporto di persone disabili. Palazzo Marino sfida i ricorsi alla TAR delle associazioni di categoria, i mezzi raggiungeranno quindi quota 5305. L'assessore Censi ci tiene a sottolineare però che oggi il servizio non è all'altezza di questa città, e ci saranno poi agevolazioni per chi presterà servizio nei weekend e nelle fasce nottune. Sappiamo che la questione taxi è sempre una questione molto spinosa e palese, secondo me, che il servizio di taxi a Milano non è all'altezza della città di Milano, ma più che altro perché quando ci sono le week, quando ci sono alcuni eventi, non ci sono taxi più di euro. Ma anche in realtà normalmente durante la settimana mi è capitato più di una volta, in realtà io non sono un assiduo frequentatore dei taxi, ma mi è capitato doverli prendere magari verso l'ora, appena dopo cena, quindi neanche diciamo di notte, in zona centrale, in zona all'interno dei bastioni, e avere difficoltà a trovare un taxi libero, vedere le fermate dei taxi, le stazioni di taxi piene di gente in coda, sappiamo insomma che non è un tema semplice, ci sono le licenze da una parte, dall'altra c'è gente che ha investito decine e decine e decine di migliaia di euro per fare quel lavoro, e un lavoro non semplice, io continuo a ripetere, la soluzione sicuramente non è far arrivare un nuovo player come era successo, che arriva, sdogana tutti e chiunque di noi per fare il tassista, no, non può essere quella la soluzione, però credo che forse nel 2024 sia da rivedere completamente l'idea che abbiamo nel trasporto dei taxi, capire come mai in altri paesi del mondo è, prima di tutto più economico, più veloce e più efficiente, noi invece abbiamo ancora comunque una situazione molto stagnante, in più bisogna secondo me smetterla anche di fare le fazioni contrapposte, cioè i tassisti brutti e cattivi da una parte e i cittadini poverini, oddio, dall'altra parte, non può essere questo, come non può essere neanche il contrario, da una parte i tassisti poverini hanno speso soldi e tutto e voi cittadini non capite niente, ecco no, io continuo a ripetere che bisognerebbe trovare una soluzione definitiva a questo problema che non va trovata solo a Milano, perché naturalmente è un problema nazionale di come funzionano le licenze, di come funziona dove registri l'auto, so che ci sono situazioni dove tu non puoi andare in altri comuni, insomma una situazione veramente complicata, potremmo copiare dall'estero, forse sì, forse no, so solo che appunto in altra città d'Europa quando si è magari già in tre persone conviene prendere un taxi piuttosto che altri mezzi, in Italia sappiamo quanto invece è costoso prendere un taxi e quanto è anche difficile spesso volentieri riuscire a recuperarlo. Sicuramente nelle giornate di pioggia come oggi c'è una richiesta maggiore di taxi, ma c'è una maggiore richiesta proprio del trasporto e quindi capiamo come alle 7 e 19 minuti anche la situazione del traffico su Milano è emessa e quindi cerchiamo di capire come in questo momento le strade sono trafficate più o meno grazie a chi? Grazie a Luce Verde che tutte le mattine ci dà in tempo reale la fotografia del traffico su Milano e città metropolitana. E bene bene bene, allora ieri abbiamo parlato di quante buche ci sono a Milano, vi ricordate? più di 500 buche nell'arco di una settimana dopo le grandi piogge della settimana scorsa quindi chissà oggi cosa succederà visto che non è che di queste 500 buche siano state tappate neanche una visto che continuava a piovere e continuiamo, no qualcuno forse sì in realtà no, ho visto che qualche intervento è stato fatto per fortuna ma la maggior parte ovviamente sono ancora scoperte e sicuramente le piogge di ieri e di oggi non aiuteranno a risolvere la situazione. Questo comporterà quindi l'apertura di tantissimi cantieri sicuramente nei prossimi mesi nella nostra città i cantieri che hanno sempre un compagno di vita insieme a loro chi? Lumarel, lo sapete, Lumarel, chi è Lumarel? è quel personaggio che si mette di solito con mani incrociate dietro la schiena a guardare i cantieri e nei più dei casi a scuotere la testa in maniera di dignità, disaccordo con quello che vede più delle volte bene, Lumarel non è una novità del nostro tempo c'è sempre stato, tanto che arriva a Milano, un documentario che si chiama Classic Lumarel i cantieri eroici di Milano dal 1933 al 1968 ebbene sì, allora sono i camion che portano via le macerie della guerra per costruire Montestella gli operai che lavorano per costruire l'università cattolica in Largo Gemella Milano i cantieri del boom negli anni 50 insomma tutto questo, i puttore galfa, pirellone tutto questo è un'immersione nella metropoli operosa che si rialza e guarda al futuro appunto Classic Humarel, i cantieri eroici di Milano 1933-1968 è il documentario realizzato dalla Cinematica di Milano con il patrocino del comune e per il progetto Milano è Memoria che si può vedere dove? Al cinema Arlecchino il 7, il 9 e il 10 marzo andate sul sito Arlecchino, trovate tutte le informazioni io lo sto leggendo adesso qui da Repubblica Milano invece dove c'è anche una sorta di trailer da un minuto che vi fa vedere un po' quanto e cosa si possa vedere molto interessante per una, appunto Milano è Memoria questo progetto del comune che appunto vede la proiezione di questo documentario realizzato dalla Cineteca di Milano e proiettato al cinema Arlecchino il 7, il 9 e il 10 di marzo quindi l'Humarel Classic, Classic Humarel bello eh, il titolo, potete fare un titolo a questo punto c'è Humarel Classic cioè, potete fare un po' le milanese già che c'era non so, un italiano, no, sempre sto per mettere queste parole un po' così però devo dire che è molto molto interessante da quel poco che ho visto, appunto con un minutino di trailer le immagini sono davvero interessantissime e quasi spettacolari perché fanno vedere una Milano completamente a noi sconosciuta nel senso che non abbiamo visto nulla di tutto quello non lo diamo per scontato abbiamo per scontato appunto la Cattolica abbiamo per scontato il Pirellon, la Torre Galfa anzi abbiamo visto rifare semmai la Torre Galfa abbiamo visto tanti cantieri nella City Life, per Expo per tantissime altre situazioni a Milano ma che non sono quei cantieri lì che non sono quei cantieri lì anzi raccontati spesso l'interi poi dalla voce di chi ci lavorava o da chi comunque viveva quelle zone così è interessantissimo già solo il trailer immagino anche il documentario che ripeto sarà in scena in una notte proiettato scusate il 7, il 9 e il 10 marzo al Cinema Arlecchino qui a Milano appunto il documentario Classic Umarel Cineteca di Milano e Comune di Milano Angelina Mango con La Noia ricominciamo, ripartiamo con la seconda mezz'ora di trasmissione qui su Crystal Radio Good Morning Milano con la grande musica che arriva da Sanremo ma Crystal Radio è tanta buona musica non solo in radio ma anche fuori perché sì siamo media partner, collaboratori adesso non so bene il termine tecnico ma siamo parte integrante di una bellissima iniziativa che è un concerto, un concerto gospel si chiama The Coral Gospel Gospel Choir The Coral così si chiama The Coral comunque dove cos'è? è un concerto gospel che verrà fatto martedì 26 marzo alle ore 21.30 al Cinema Teratro Orizzonte di Piazza Damiano Chiesa a Milano ingresso a Offerta Libera appunto in collaborazione con Crystal Radio e quindi raggiungeteci venite numerosi ad ascoltare The Coral On Stage un coro gospel e tanto altro così dice anche la locandina che sto leggendo in questo istante questa è la grande musica appunto che parlavamo di ascoltare qui su Crystal Radio ma non solo pensate adesso vi racconto una cosa personale che mi è successa nei giorni scorsi che mi ha un po' colpito che come sempre però ti fa capire come mai Apple è Apple allora non è un momento pubblicitario ma è un momento di assurde cose che succedono quando chiami il servizio clienti Apple non mi è capitato di chiamare il servizio clienti Apple l'assistenza tecnica Apple non mi è capitato di chiamarla no perché funziona sempre tutto non è vero ogni tanto c'è bisogno di chiamarlo mi è voluto chiamarlo per un problema che avevo su un software tra parentesi un sistema operativo c'è un piccolo bug in realtà riconosciuto poi scoperto da Apple una cosa un po' tecnica su dei file PDF ma non sto a entrare nel merito sta di fatto che allora cosa fai? chiami anzi sul sito c'è la possibilità di farti chiamare quindi loro ti chiamano ti chiamano sanno già chi sei dove abiti cosa fai come ti chiami tutto perché con l'ID Apple che avevi nel tuo browser sanno già tutto di te ma la cosa bella è che rimani comunque in attesa cioè ti chiedono schiaccia uno per sentire questo se hai bisogno di questo problema se hai bisogno di quest'altro quindi roba tecnica software iPhone o Macintosh schiacci il tuo pulsantino dopodiché dice ok sei in attesa a questo punto parte la richiesta più astuda che ho mai sentito ma che è geniale come al solito perché insomma Apple è geniale anche in quello sapete che Apple ha la sua Spotify che è Apple Music cioè ha il suo servizio di streaming e a un certo punto dice questo il disco dice se vuoi adesso sei in attesa rimani in attesa cercheremo di allietare la tua attesa con una selezione musicale già questo non parte la musichetta classica ti dice così ma ti dice puoi scegliere quale musica ascoltare premi uno per musica pop premi due per musica classica poi forse c'era premi tre per musica folk insieme a una cosa del genere premi quattro per silenzio cioè geniale io ho premuto due effettivamente partita musica classica a manetta roba bellissima pensavo che effettivamente se non avete i soldi per fare un abbonamento a un servizio di streaming potete chiamare il servizio clienti apple rimanere in attesa e potete anche scegliere che musica ascoltare potrebbe essere una cosa una cosa utile anzi sto pensando che forse il servizio clienti apple fa concorrenza a noi radiofonici a questo punto se mettono anche nella musica però è molto interessante col pulsante voi uno due tra quattro potete scegliere che tipo di musica ascoltare mentre siete in attesa che qualcuno vi risponda io l'ho trovato geniale non so l'ho trovato veramente un po' surreale e un po' geniale devo dirvi sinceramente l'ho trovato così sinceramente sinceramente analisa sinceramente 7.40 minuti sta venendo giù il diluvio non so da voi ma qui a San Siro sta venendo giù il diluvio altro che non ci sono le bombe d'acqua in questo momento sta venendo giù di tutto speriamo che tutto tenga speriamo che non ci siano danni nel caso segnalate 331-78-53-555 teniamo sottomonitorato anche i siti vari di Arpa Regione Lombardia e anche i livelli di Seveso e Lambro adesso ripeto all'istante al momento non sembrano esserci problemi però insomma noi teniamo alta l'allerta perché qui davvero davvero sta venendo giù la qualunque non so se voi come siate messi in questo momento se siete nel traffico auguri se siete a piedi ancora molti molti più auguri perché davvero qui rischiate di non tornare a casa cioè tornate a casa zuppi anzi arrivati in ufficio o università o dove dovete andare completamente zuppi sta venendo giù veramente l'ira di Dio quindi copritevi non so cosa dirvi oppure uscite un po' prima fate strade coperte so che ahimè non siamo siamo a Bologna quindi sapete che Bologna si può girare tutta la città semplicemente stando sotto i portici e non ti bagni mai ecco a Milano questa cosa non avviene da nessuna parte praticamente non ci sono anche più balconi i balconi adesso li fanno quasi tutti interni non ci sono neanche balconi a cui mettersi sotto e riuscire a coprirsi mi spiace non è una città per quando piove Milano no per niente mi spiace e le strade lo stanno dimostrando in maniera eclatante anche in questi giorni comunque questo è quanto vi ricordo appunto che la giornata andrà avanti così ancora per qualche ora poi dovrebbe iniziare leggermente a spiovere domani non dovrebbe piovere in teoria ma venerdì poi dovrebbe ritornare il brutto tempo la pioggia nel weekend parlavo di appunto prendete i mezzi cercate di non aver coperto attenzione però che la M4 la metropolitana 4 chiude per test dall'8 al 10 marzo e dal 4 al 10 aprile quindi dall'8 marzo da venerdì M4 chiusa fino al 10 marzo e poi dal 4-10 aprile perché appunto lo stop è dovuto alle prove per aprire l'ultimo tratto della linea milanese della metro quindi scrivono del metro vabbè durante il giorno sarà possibile utilizzare gli autobus BM4 e di notte gli NM4 quindi nuove chiusure per la M4 leggiamo da Repubblica Milano è già accaduto nel giugno scorso nei prossimi giorni appunto nuovo stop per l'apertura della tratta San Babila San Cristoforo prevista in autunno come state quanti test devono fare se già devono farlo adesso quindi marzo aprile ma poi sappiamo che ci saranno anche delle giornate di chiusura negli altri più avanti nei mesi anche estivi in particolare appunto dall'8 al 10 marzo la linea sarà sempre chiusa e verrà sostituita durante il giorno dagli autobus BM4 e invece nella notturna dalla NM4 la notturna M4 NM4 è la sostitutiva c'è in realtà anche per altre linee c'era la NM1 così comunque mi raccomando tenete presente questa roba da venerdì se dovete uscire e prendere la M4 ricordatevi che non dovete andare sottoterra ma andare a fermare dall'autobus e prendere un autobus che farà le stesse più o meno identiche fermate del tratto della della M4 anzi mi verrebbe sorridere perché diciamo che è una sorta di ripristino della 73 tutto il casino che c'è dentro la 73 ecco ce l'avete per qualche giorno è una sorta di 73 che arriva D'Argento Amico Onda Alta qui su Cristal Radio in diretta Good Morning Milano 331 78535555 e ringrazio gli ascoltatori ringrazio Fabrizio che ci manda una foto in diretta dal Sud Milano zona opera con un bellissimo arcobaleno scrivendo schiarite con arcobaleno buona giornata Cristallini buone notizie arrivano dal Sud Milano quindi vuol dire che sta arrivando anche qua a San Siro chissà speriamo speriamo anche nel Nord Milano vuol dire che il bel tempo arriva da Sud oggi quindi aspettiamo guardiamo verso il cielo un bellissimo arcobaleno con vista su arcobaleno mi piace questa foto che ci ha mandato Fabrizio al 331 78535555 dalle vostre parti cosa succede come sta andando ditecelo potete mandarci un whatsappino oppure una foto oppure quello che volete potete venire qua citofonare e dirmi guarda che a casa mia non pioveva qua invece piove si sta schiarendo credo anche qua così a occhio vedendo dalla finestra quanta luce sta entrando però poi chiedo conferma alle mie registe alla mia producer vediamo un po' cosa cosa mi dicono in realtà stamattina non pioveva quando siamo arrivati in studio poi è arrivato l'Irad Dio e adesso veramente dei rovesci pazzeschi però arrivano appunto buone notizie dal Sud Milano grazie mille Fabrizio per il tuo whatsapp e la tua foto dell'arcobaleno e anche di buona auspicio mi piace questo arcobaleno che arriva così in studio di prima mattina e ci regala un bel scorcio della nostra città appunto dalla parte di opera ma appunto di buone notizie parliamo c'è una mezza buona notizia per venerdì nel senso che allora venerdì è la giornata nazionale della donna festa della donna di solito c'è lo sciopero dei mezzi quest'anno ATM non lo fa almeno al momento ATM non ha comunicato niente sembrerebbe che anzi abbia comunicato l'opposto cioè che tutto sarà regolare attenzione però perché ho detto mezza notizia buona l'altra mezza è che invece sciopero dei trasporti confermato per Trenord e Trenitalia quindi i treni scioperano l'8 marzo l'ATM in teoria no quindi non in teoria anzi in pratica dice venerdì l'8 marzo sarà la giornata dello sciopero generale leggo da Milano Today su Milano dove ATM ha comunicato che non ci saranno disagi a metro bus e tram ci sarà invece lo sciopero dei treni di Trenord così come invece a livello nazionale ci saranno a rischio scusate saranno a rischio i treni di Trenitalia e il trasporto pubblico locale di altre città quindi attenzione ATM no ma attenzione Moviboss quelle lì controllate perché non è detto che non facciano sciopero ok perché noi poi diamo per scontato che siamo tutti qua a Milano a parlare a raccontarcelo compagnie cantante ma poi attenzione perché anche le linee che arrivano da fuori Milano fanno magari lo sciopero e quindi poi dopo ci sono delle interessanti situazioni che vanno a crearsi con voi fermi nella tundra di Brianzola ad esempio così fermi di mezzo senza poter arrivare dove dovete arrivare quindi attenzione l'8 marzo date un occhio ATM conferma che non farà sciopero invece è confermato lo sciopero di Trenord e Trenitalia attenzione alle linee invece di altre zone quindi Moviboss mi viene in mente o altre che fanno linea sulla zona esterna della nostra città metropolitana o delle province di Mitrofe se voi dovete arrivare in città tramite gli autobus quindi mi raccomando date un occhio ai vari siti andiamo avanti con la musica Lil Wayne in The Formula Roxy Music more than this alle 8 e 0 8 minuti bentornati su Cristian Radio bentornati a Good Morning Milano una Milano coperta dagli arcobaleni almeno questo sembra per quello che mi state scrivendo al 3317853555 è arrivato un altro whatsapp che dice arcobaleno sui navigli e quindi grazie anche a quello abbiamo visto altre foto che fanno vedere anche arcobaleni nella zona di Bucinasco quindi nella zona sud-ovest della città sta arrivando sta spiovendo e arrivando l'arcobaleno bene quindi i colori della città ricominciano a rivivere in questa mattinata di oggi mercoledì 6 marzo speriamo appunto che tenga un po' di più ma soprattutto perché si possono anche andare a ripristinare lo abbiamo detto nei giorni scorsi ma anche in apertura di trasmissione tutte le varie buche che ci sono nella nostra città veramente un gruviera stradale più di 500 buche solo nella scorsa settimana le segnalazioni arrivate solo nella scorsa settimana al comune di Milano quindi insomma speriamo che davvero ci sia un attimo di tregua per poter intervenire in così guardando però le previsioni del tempo il weekend non sarà clemente quindi mettiamoci una mano sulla sulla testa per coprirci dall'acqua questo è quello che possiamo fare mercoledì 6 marzo non posso continuare ad andare avanti a fare la trasmissione senza fare gli auguri di buon compleanno a una nostra ascoltatrice ma non solo una grande amica ma non solo una sorella a tutti gli affetti Marilena buon compleanno finalmente maggiorenne potremmo dire e finalmente e chissà che magari ti ritroveremo un giorno anche qua di nuovo ai microfoni di Crystal Radio qui a Good Morning Milano magari non so no Good Morning Milano troppo presto per te so che ci ascolti però e quindi buon compleanno buon compleanno buon compleanno alla nostra Gianduiotta comunque andiamo avanti con la musica parliamo di musica parliamo dei pinguini tattici nucleari con Scooby Doo i pinguini tattici nucleari erano loro che ci mandano avanti nella programmazione della giornata ma adesso leggiamo da Corriere della Sera Milano cosa succede in giornata o meglio abbiamo detto che dovrebbe andare a spiovere durante la giornata dovrebbe andare anche a risolversi l'occupazione del Liceo Parini di Milano perché leggiamo da Corriere Milano Liceo Parini l'occupazione finirà mercoledì pomeriggio riaperto il dialogo e trovata un'intesa i ragazzi hanno dormito a scuola ancora con il preside a vigilare la scorsa notte e poi dovrebbero liberare appunto i locali nel pomeriggio di oggi inoltre ieri è stato permesso ai ragazzi di Quinta ai loro insegnanti di accedere alle aule e sostenere le prove in valsi ministeriali che appunto si svolgono in tutte le scuole in sincrono e che sono obbligatorie per gli esami di maturità quindi c'è anche un'intesa su questa situazione situazione che però è un po' degenerata anche perché il preside aveva si era definito prigioniero politico e aveva dato dei fascisti ai ragazzi che impedivano lo svolgimento delle lezioni e sulla questione si è espresso anche il sindaco Sala il sindaco Sala che leggiamo dice fuori luogo le parole del preside ha dato dei fascisti ai ragazzi sono cose da evitare queste dichiarazioni sono proprio cose da evitare queste sono le parole del sindaco Sala su Corriere Milano c'è un articolo che lo racconta bene e c'è anche un video appunto con l'intervista al sindaco Sala che redarguisce redarguisce diciamo il preside o meglio dice insomma sono cose che non si dovrebbero dire su dei ragazzi che stanno facendo quello che stanno facendo dice anche però le occupazioni ci sono sempre state io mi auguro però e do questo consiglio ragazzi di lasciare la scuola come l'hanno trovata o magari anche meglio insomma come dire stiamo vigiliamo su cosa combinate mentre noi non ci siamo mentre voi occupate la scuola noi comunque vigiliamo e mi raccomando non fate danni vedremo oggi pomeriggio capiremo poi come sarà andata questa occupazione al Parini e capiremo se c'è qualcun altro che sta seguendo l'altra perché sapete le occupazioni sono andate a staffetta ogni scuola due o tre giorni e poi cambiamo un'altra scuola siamo arrivati a quota 6 adesso vediamo se ci sarà una 7 una 8 chissà quando si fermeranno Gali casa mia 8 e 19 minuti Crystal Radio mercoledì 6 marzo la pioggia sta spiovendo come si dice in questo caso la pioggia sta schiarendo no il cielo si sta schiarendo la pioggia sta lasciando il posto alle nubi più chiare e agli arcobaleni che ci mandate 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 5 lascerà anche ovviamente spazio alle varie buche che rimarranno sulla strada come abbiamo già detto questa mattina perché ritorno sul tema buche perché proprio il mitico Ambrogio Curti ci dà un asset mi ha appena scritto Ambrogio Curti che conduce dopo di noi senti questa dicendo ma ti ricordi quella di Walter Valdi come faceva come faceva c'è una canzone scritta da Walter Valdi interpretata anche da Nanni Svampa che diceva proprio così sentite sentite come diceva nella mia strada che è una busa nuova una busa nuova che ieri la ghiera no l'uminga vista porca una eva che la busa nuova e pa su un urlagione eh sì la busa nuova tutto in casa udivo in del sindic mandi dentro a parlare a sportello tutto dal sindaco capito capito che in giro i bus senza cartello capito ci sono in giro le buche senza cartello vada al sindaco a dirglielo una busa nuova che ieri la ghiera no nessuno fa male tutti ieri sulla gengiva nella busa nuova e mi fa male e questo insomma è quello che potrebbe succedere davvero a tutti quanti in giro interessante come lì le burlaggiò è caduto lui adesso sarebbe la ghiera na busa nuova ho rotto il motorino sarebbe così anzi mi sentite che anche la nostra Viola ci raccontava attenzione a una buca grandissima che c'è in zona Bonola questa è la precisione di Viola nel dare le strade in zona Bonola più o meno giù di lì c'è una grossa buca in mezzo a una strada nonostante altre siano state chiuse quindi diamo anche adito cioè diamo anche appunto diamo a no a Cesare non c'è più diamo a Cesare ciò che è di Cesare diamo a Sala ciò che è di Sala nel senso che alcune bucche sono state chiuse ma lì c'è una ancora bella grossa bella aperta che ha spaventato la nostra Viola dice se ci finisco dentro rompo sicuramente ha detto anche l'opneumatico pensate l'ha detto anche correttamente con il giusto articolo l'ho davanti a pneumatico brava Viola la nostra producer ce la invidiano tutti quanti nella radiofonia italiana e non solo pensate che la richiedono anche da radio estere tipo in Olanda e in posti del genere eh sì sì poi vi faremo sapere comunque grazie ancora ad Ambrogio Curti per il suo spunto è veramente interessante andate a cercarla si chiama La Busa Nuova lo potete anche scrivere Busa Nova la trovate non male perché anche su quello credo che giocasse la Busa Nova la Bossa Nova cioè giocava anche su questo pensate il doppio senso il trick adesso diremmo il twist diremmo adesso all'epoca si chiamava gioco di parole credo cosa del genere comunque Walter Valdi o appunto noi abbiamo sentito invece la versione cantata da Nanni Svampa La Busa Nuova guardate faccio sentire ancora quella di Walter Valdi c'è anche quella lì sentite questa qui fa così fa capito eh sì le burlaggio le burlaggio attenzione anche voi a non andare giù ma invece cercate di rimanere su anzi rimanete su grazie alla musica di Cristal Radio e a Madame con voce 8 e 22 minuti Cristal Radio Good Morning Milano con voce noi stiamo per andare in pausa perché fra poco parte la pubblicità non prima di aver suonato un'altra canzone poi qualche consiglio per gli acquisti e poi ancora qui di nuovo per l'ultima mezz'ora in vostra compagnia credo che arriverà anche la sequenza sequenziale sì quel momento in cui metto una raffica di canzoni per cercare di farvi ballare e uscire nel migliore delle maniere questo oggi è un po' un dancing in the rain volendo ok potremmo uscire e cercare di superare qualsiasi avversità i cileni ripieni di zucchero no sono i gilet ripieni di zucchero i cileni ripieni di zucchero viene così ormai ci sono meme che girano sulla rete con qualsiasi confezione stile bayocchi stile come si chiama tegolini o così ma con i cileni ripieni di zucchero comunque la rete dà sempre grande grande soddisfazioni o comunque fa capire quanto siamo impegnati a fare completamente tutto il giorno cose inutili come i meme sulla canzone di Mahmood tuta gold invece andiamo avanti a leggere un po' di notizie perché torniamo un po' sull'attualità su cosa succede in città cosa è successo allora ieri è stato aperto il che manca qui io non capisco l'inaugurazione dell'anno accademico a marzo scusate regia alzatemi un attimo in piedi e fatemi capire una cosa soprattutto perché parliamo dell'università della nostra regista perché fanno l'inaugurazione dell'anno accademico a marzo non ne ho la più valida idea appena detta ok e se è una student lo fanno tutti gli anni a marzo ah ok tutti gli anni a marzo la Yulm fa il l'apertura dell'anno accademico a marzo comunque ieri il il rettore Gianni Canova ha voluto dire la sua anche sulla città di Milano adesso non me ne voglio Canova non me ne vogliono tutti ma la dice chiunque effettivamente perché lui no nel senso chiunque ormai dice qualcosa su Milano pensate io lo dico tutte le mattine dalle 7 alle 9 quindi ci mancherebbe le sue parole possono essere bastante interessanti perché dice la città di Milano è una città inclusiva e ospitale da alcuni media arriva una narrazione malevola e faziosa e così ha detto infatti il rettore Canova leggiamo da Repubblica Milano perché nel discorso per inaugurazione dell'anno accademico entra sul dibattito entra nel dibattito scusate sulla sicurezza e costi della vita ha i problemi delle grandi metropoli come tutte le grandi metropoli ma la descrivono come una giungla di cemento terrorizzata dalla criminalità come sempre la verità sta nel mezzo nel senso che un po' ragione c'è anche il rettore Canova lui dice appunto Milano è una città aperta inclusiva e ospitale ha una congenita vocazione internazionale siamo una città mondo e duole dover constatare che una narrazione malevole e faziosa da parte di alcuni media tende a descrivere la nostra città come una giungla d'asfalto di cemento terrorizzata dall'insicurezza e dalla criminalità rettore sono d'accordo con lei per metà come dire sono per metà d'accordo con lei nel senso che è vero la città ha quella vocazione la città è una città inclusiva e aperta e che tiene sempre aperte le porte a chiunque venga qui però non solo sono i media a dare una rappresentazione malevola e faziosa di questa città ma anche la realtà dei fatti che sappiamo è una città troppo cara una città dove tantissimi studenti e adesso qua molto probabilmente abbiamo anche un po' di miopia nel vedere che studenti arrivano perché ovviamente se parliamo di certi tipi di università hanno sicuramente meno difficoltà che in altre università parliamo delle università private di Milano delle grandi cattolica Naba Yulm Bocconi ovviamente hanno una visione ristretta di chi è lo studente medio che viene a Milano dall'altra parte dobbiamo anche però capire che non è solo quell'altro che viene a Milano che non è solo la visione di chi non riesce ad arrivare a fine mese o chi ha difficoltà nel poter studiare ci sono però queste realtà e credo che girarsi dall'altra parte e dire che non esistano non sia la cosa migliore e soprattutto per una volta mi trovo a dover difendere la categoria che sapete faccio molta fatica a difendere la categoria dei giornalisti ma diciamo che il racconto che a volte è esagerato sull'insicurezza sul Milano che non è per tutti è vera nel senso che c'è questo racconto ed è esasperato da molti media però prende spunto dalla realtà nel senso che poi i dati che abbiamo in mano i dati che arrivano dalle varie università dalle varie scuole dalle varie associazioni che hanno a che fare con il territorio milanese danno ragione però a questo dato nel senso che sempre di più i studenti fuori sede che sono tantissimi a Milano fanno fatica a trovare delle case a Milano fanno fatica a vivere a Milano e sempre di più vivono quasi su una soglia di povertà più o meno nonostante l'università sia pagata dai genitori spesso volentieri e fanno difficoltà anche a trovare magari dei piccoli lavoretti per poter riuscire a mantenersi in università quindi insomma è una città veramente complicata quella di Milano e credo che una persona intelligente come il rettore Canova questa lo sa benissimo e quindi abbia voluto magari un po' così alzare un po' di polvere sul discorso anche per farne parlare e quindi va bene prendiamo la colpa la diamo ai media tanto ne hanno di colpe ne abbiamo di colpe quindi è giusto che ci venga riversata addosso un po' di colpa ma ricordiamo che non è solo colpa dei media è spesso e volentieri invece questa città che ti mette di fronte a delle richieste a volte veramente difficili per tantissimi studenti e ripeto non solo di statale o altre persone anche molti studenti da Yulm hanno comunque difficoltà a vivere in una città come Milano una città che ti chiede davvero tantissimo e che troppo spesso ti dà indietro poco poi quel poco che ti dà indietro sono grandi università grande formazione in università come ad esempio la Yulm statale e tante altre che sono eccellenze comunque italiane sicuramente abbiamo visto anche eccellenze nel mondo con delle università come il Politecnico che si attesta sempre nelle prime posizioni delle migliori università d'Europa e del mondo Clara con Diamanti Grezzi oggi è il 6 di marzo oltre a essere il compleanno di Marilena che abbiamo detto prima è anche la data in cui fra due anni inizieranno i giochi paralimpici invernali di Milano e Cortina ebbene sì mancano due anni precisi a quella data è importante perché avverranno dopo il mese dopo le tre settimane piene di appuntamenti per le Olimpiadi invernali e ci saranno altrettante settimane poi per i giochi paralimpici che saranno 10 giorni più o meno dal 6 di marzo al 15 di marzo del 2026 importante sarà bello vedere come la città si colorerà con i colori paralimpici e il logo delle Paralimpiadi che sono quei tre sembrano delle mezze lune degli swish in realtà sembrano rosso, blu e verde lo trovate l'avete visto anche sotto l'albero di Natale in Piazza del Duomo quest'anno insomma siamo sempre più vicini mancano solo due anni all'inizio delle Paralimpiadi quindi pensate in realtà fra due anni oggi saranno già finite le Olimpiadi quindi pensate siamo qua ancora che le stiamo aspettando le stiamo cercando e tutto e pensa fra due anni oggi saranno già finite e anzi oggi inaugureranno le Paralimpiadi anzi usate da come si deve definire giusto dal 2004 una nuova definizione non sono più Paralimpiadi ma sono i giochi Paralimpici quindi auguro a tutti quelli che dovranno gareggiare so che anzi sono già iniziati quelle varie qualificazioni i vari trial per potersi qualificare poi nelle discipline che vedremo poi nei giochi Paralimpici appunto dal 6 al 15 ben detto giusto dal 6 sì dal 6 al 15 marzo 2026 Bob Sinclair Rock the Boat insieme a Pitbull e questo è l'inizio della nostra sequenza sequenziale un po' di musica per cercare di farvi uscire nel migliore delle maniere durante la vostra giornata anzi durante questa mattinata nella città sui marciapiedi con le buche e con tanta acqua ma cercando di mantenere sempre il buon umore e magari anche mantenendo la cadenza sincopata della musica a disco che adesso andremo a mettere cercando di ballare muovete quelle anche anzi ve lo dico proprio spontaneamente sculettate in mezzo alla strada ballando la musica di Crystal Radio e ora le Sisters Ledge con We Are Family eh sì perché voi siete la nostra famiglia quella di Good Morning Milano e i Bee Gears adesso arrivano eh questo non è Sisters Ledge con We Are Family ma abbiamo già pronti sull'altro piatto sull'altro giradischi i Bee Gears sì perché vogliamo farvi ancheggiare ancora continuare ad ancheggiare dentro a questa città che oggi vi vuole bagnare a tutti i costi ma voi scansate le gocce al suono della danza anzi you should be dancing 8 e 55 minuti di oggi mercoledì 6 marzo siamo arrivati alla fine spero ballando spero danzando e se avete scaldato i muscoli ora invece è il momento di scaldare l'ugola perché sì dopo di noi arriva senti questa insieme ad Ambrogio Curti che sicuramente ci farà cantare grandi canzoni della storia della musica internazionale e non con anche i racconti gli aneddoti raccontati dalla sua bellissima e competentissima voce il cielo sopra la nostra redazione sembra un attimo schiarirsi ma attenzione perché potrebbero esserci ancora rovesci in giornata domani come dicevo giornata di tregua ma poi dal venerdì ritorna il pioggia e voi l'avete visto l'arcobaleno questa mattina se l'avete visto l'avrete sicuramente postato su instagram c'è un instagram che è strapieno intasato di arcobaleni beh meno male dai meglio dei gattini oddio cosa ho detto ho detto che non vanno bene i gattini mai toccare i gattini mai mai c'è anche un documentario che racconta una storia simile giù le mani dai gatti si chiama su netflix guardatelo è interessante pensate di vedere una cosa e invece tutt'altro e noi ci sentiamo domani invece sempre qui su cristal radio dalle 7 alle 9 con good morning milano come sempre ogni mattina il morning show che sveglia i milanesi grazie mille di averci seguito grazie della vostra compagnia a domani ciao